Ciao amici! Allora, sono qui perché devo dirvi una cosa importantissima e... che devo dirvi... Ho dimenticato... c'è un po' qua sulla punta della lingua... Allora, una cosa che riguarda... vediamo l'argomento... i bambini! No, 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 non è dei bambini, no, ci ho parlato dei bambini, basta, ne ho tre! Le donne, le donne... no, 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 stop! non erano le donne, era un altro argomento, ma ce l'avevo proprio come ne ero segnato, riguarda, riguarda, ma non lo so, guardate, mi ricordo solamente l'iniziale, ecco, la U, la U, ecco, però non era uva, non era uovo, no, non era upim, guardate, io non mi ricordo proprio, c'ho un vuoto di memoria, se per favore potete aiutarmi perché ho proprio rimosso.